50.000 presenze nella settimana dei riti pasquali. Solo la scorsa domenica, per la sagra rappresentazione della Madonna che scappa in piazza, si sono riversate in città 25.000 persone tra sulmonesi, fuorisede tornati da ogni angolo del mondo e turisti. Sold out nel parcheggio coperto di Santa Chiara, riaperto la scorsa settimana dopo i lavori di consolidamento dei pilastri. 440 posti occupati, più i 48 camper posizionati nell'area di Piazza Ruggeri, 10 ospitati nella vicina cittadina di Pratola Perigna, altri 5 nel piazzale di Bartolomeo di 25 aprile. Sono questi i numeri della Pasqua sulmonese che torna a far registrare presenze da capogiro, come veniva nell'epoca pre-pandemia. Il bilancio definitivo arriva dalla questura dell'Aquila e dal comune di Sulmona che tirano le somme sulla tre giorni da incorniciare. Una Pasqua che supera tutte le aspettative, sordisce il sindaco Gianfranco Di Piero. Il clima ha sicuramente incentivato le presenze ma la forza di questi riti pasquali è evidente. Come comune abbiamo fatto il possibile per riempire momenti vuoti con le manifestazioni collaterali. La cosa è andata benissimo, abbiamo operato affinché la città potesse accogliere al meglio questo straordinario evento. Un evento che ha dimostrato ancora una volta di essere straordinario perché è riuscito a richiamare in piazza una moltitudine di persone che credo non si vedeva da tempo. Oggi una splendida cornice di pubblico e di popolo ha salutato questo evento in una corsa che si è rivelata perfetta nella sua esecuzione. Speriamo che sia un segno di speranza per la città e per il territorio. Il riferimento in particolare alla serata di Pasqua con l'esibizione del DJ 7 e DJ Fargetta. Nella centrale piazza 20 settembre lì si sono concentrate altre 2000 persone. Un mix tra sacro e profano, tradizione e divertimento, devozione e aggregazione che è piaciuto alla città sempre restì alle novità. Ora dobbiamo trovare la quadra anche nel corso dell'anno per conciliare l'esigenza del popolo della notte con il riposo dei turisti. Bracci di ferro vanno risolti ed evitati, aggiunge l'assessore comunale Elio Accardo. Intanto la città si gode agli effetti del miracolo pasquale che è palpabile non solo nei numeri ma anche nei sentimenti. Niente rancori di piazza ma solo il calore di una comunità che si riscopre tale, con la speranza che non si debba attendere il 20 aprile 2025, la data della prossima Pasqua.